non so minimamente chi siano sono tre quelli che hanno fatto get lucky e penso siano in due americani sono due persone fantastiche innanzitutto suonano da dieci secondo me poi per il resto li vediamo adesso poi suonano un casco a saperlo se lo direi ma non lo so sono un gruppo inglese e sono quali che hanno il casco in testa però non si sa sinceramente che c'è veramente la faccia che sono no non sai che sono le del punk hai messo bene complimenti grazie